Per molti di noi c'è soltanto un momento della giornata in cui possiamo davvero prenderci cura di noi stessi e quel momento è prima che tutti gli altri si sveglino. Sfortunatamente è molto molto difficile riuscire a svegliarsi presto senza sentirsi degli stracci o senza trascinarsi come uno zombie per tutto il resto della giornata, ma fortunatamente una delle principali ragioni per cui questo accade è facilmente comprensibile e anche rimediabile. Il ritmo della vita moderna ci ha risucchiato come in un vortice, la maggior parte di noi vive in città sempre più veloci e frenetiche, non conosciamo più la differenza tra il giorno e la notte, non conosciamo più il silenzio, senza contare le abbuffate di Netflix e TV shows che ci facciamo ogni sera. Se poi gestisci un tuo progetto in autonomia è anche probabile che oltre a Netflix parli e pensi di lavoro ben oltre le nove e mezza di sera, con il risultato che dormi male, malissimo o poco o pochissimo e se sei simile a me quando dormi male o poco non sei una persona molto piacevole da frequentare. Per questo nel Ceci Weekly di oggi condivido con te tre abitudini che cerco quasi sempre di mettere in pratica nella mia vita e che mi aiutano notevolmente a dormire meglio, a dormire più a lungo e soprattutto a svegliarmi più carica ed energica. La prima è non guardare Netflix oltre le 10 di sera, questo può essere molto difficile se sei una persona notturna, personalmente tendo a chiudere gli occhi intorno alle 10 e un quarto e non riuscire neanche più a seguire quello che sto guardando. Non importa, a prescindere che tu sia un mattiniero o un notturno, cerca di pianificare in anticipo quanti episodi di quella tua serie preferita andrai a guardarti, non mettere The Crown in play e poi decidere un po' come va la serata e cercare un po' di capire quanto stanco o non stanco sei per proseguire, no, decidi in anticipo, pianifica, è l'unico modo per evitare di trascorrere fino alle 3 di mattina davanti al tuo computer. Una cosa che aiuta molto in questo è dedicare il letto solo per dormire, ok? Magari non solo per dormire, però perlomeno non per la tecnologia. Questa è una cosa che abbiamo cercato io e il mio compagno di fare per molto tempo e all'inizio l'idea era quella di tenere il telefono fuori dalla stanza da letto, punto, non doveva entrare, inutile dire che è stato un fallimento totale, per cui adesso la regola è che lo possiamo tenere in camera da letto ma deve essere in modalità aeroplano e di solito lo sai, no, siamo creature pigre, quindi chi ha voglia di scorrere col dito e bruciare calorie per riattivare la modalità non aeroplano? Nessuno, almeno non io. E questa è proprio la seconda cosa che ho smesso di fare, quello di controllare il mio telefono poco prima di andare a dormire. L'idea è quella di tenere almeno 30 minuti prima del momento in cui chiudiamo gli occhi liberi da qualsiasi aggeggio tecnologico. Questo non soltanto per la luce blu e per tutto quello che la tecnologia può causare a livello fisiologico, ma anche per la tua sanità mentale. Vedi, come persone, come esseri umani, amiamo chiudere il cerchio. Se cominciamo una conversazione l'idea è quella di chiuderla, altrimenti continueremo a pensarci e quindi se guardi un'email, leggi un messaggio o in tavoli una conversazione su Messenger poco prima di andare a dormire, è molto probabile che ti sognerai la conversazione per tutta la notte oppure non riuscirai proprio a chiudere occhio. La terza e ultima abitudine che ho deciso di interrompere con tutta me stessa, perché stava diventando una vera e propria dipendenza, è quella di parlare di lavoro quando ci si rilassa tra i cuscini. No, no e no. Per la stessa ragione che ti dicevo prima, quando cominciamo a parlare di lavoro cominciamo a parlare di idee per le quali vogliamo arrivare a una conclusione, oppure problemi per i quali vogliamo arrivare a una soluzione, non è più finita. Quello che faccio da un po' di tempo a questa parte quindi è quello di tenere carta e penna sul comodino. Carta, penna, nel caso non ti ricordassi cosa fossero, sono due oggetti che puoi toccare, non c'entra il wifi, non c'entra la tecnologia, non c'entra il telefono e mi scrivo le idee che mi vengono in mente, così non rompo le scatole a chi mi sta a fianco e non cado in tentazione, prendendo quindi il telefono, attivando la rete e cominciando a guardare tutta una serie di cose che assolutamente non erano importanti in quel momento. Quindi non mi resta che lasciarti con una semplice domanda, quale routine serale, quale abitudine serale hai adottato da un po' di tempo a questa parte che ti sta aiutando moltissimo ad essere un pochino più creativo e a dormire sogni più tranquilli. Condividila nei commenti qui sotto perché ricorda che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici e se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio un grandissimo abbraccio di luce!